No, non è la spesa normale, però non fa riferimento a una famiglia, ma a quattro famiglie, quindi non è una spesa eccezionale. I carrelli sono pieni, gli scaffali vuoti, il panico da coronavirus arriva anche ad Arezzo e le spese nei supermercati sono indubbiamente fuori dal comune. In pochi lo confermano, ma le foto che girano sul web parlano chiaro. I disinfettanti e gli antibatterici vanno a ruba, anzi in alcuni casi sono esauriti. I beni di prima necessità, latte, uova, farina, pasta, vengono acquistati in grandi quantità. Eppure ancora in Toscana non ci sono casi confermati di coronavirus. No, volevo sapere se magari state facendo un po' di scorte, perché magari presi un po' dal panico di questo coronavirus. No, dal panico no, un po' di scorte sì, ma perché siamo in tanti qua, che siamo qua in villeggiatura. Ah, siete turisti? Sì, sì, sì. Da dove arrivate? Da Belluno. Sì, dobbiamo tornare in Suma e per fortuna ancora nella nostra zona non c'è niente. Ma arriverà anche là, sicuro, perché siamo sicuri che arriva dappertutto. Sembrerebbe che la mortalità sia veramente bassa. Speriamo, perché io penso che ancora se ne sappia poco. No, una spesa normale, perché i miei genitori non stanno tanto bene, allora faccio una spesa per loro. No, non per il panico. Quindi lei non è nel panico? Un pochino sì, però un po' di paura c'è per forza, però non faccio la spesa per questo. A vedere si direbbe che io ho fatto una spesa, data l'occasione che purtroppo ci ha colpito. In realtà questa è la mia spesa che faccio al fine del mese sempre. Faccio una spesa grande, ho una famiglia abbastanza numerosa. Per cui, però, certo, bisogna un attimino anche premonirsi, un minimo, senza esagerare però, perché dopo si diventa maniacali in certe situazioni. Ho fatto anche i detergenti. Sì, ma ripeto, sempre le cose che io compro ogni mese, sì, il sapone per le mani, ma ecco, al fine mese c'è sempre da fare una spesa abbastanza consistente. No, assolutamente, io sono molto fatalista, quindi faccio la spesa normale e ho anche un'età che potrei essere a rischio, però sono fatalista. Io mi faccio la mia spesa normale, non voglio pensare a cose più brutte. Speriamo che il Signore ci aiuti. Buongiorno.